Le squadre siciliane del massimo campionato italiano di pallanuoto maschile. Dopo la sosta per la nazionale con l'amichevole di lusso vinta dal settebello contro la Grecia, tutte le squadre di A riprenderanno il cammino per un turno infrasettimanale. Uno scontro diretto è atteso per la nuoto Catania. Gli uomini di coach Peppe Dato ritroveranno il pubblico di casa e ospiteranno Torino per un match importante ai fini della classifica e del morale. Entrambe le compagini hanno fin qui ottenuto soltanto una vittoria e vorranno entrambi invertire il trend d'inizio stagione. Fischio d'inizio alle ore 15 alla piscina Scuderi di Catania per vedere in azione Torrisi, Cazar e Compagna a caccia del successo. L'altra isolana che sarà impegnata nel turno infrasettimanale di campionato è l'Ortigia. Gli aretusei allenati da Stefano Piccardo sono una delle piacevoli rivelazioni di questo avvio di stagione. E alla piscina Paolo Caldarella affronteranno Savona per il match di cartello della quinta giornata. Entrambe le squadre si trovano appaiate a quota 9 punti. Intanto è tutto pronto al via del campionato di A2 maschile, torneo che scatterà sabato 25 novembre e confermerà la consueta formula di due gironi da 12 squadre. Per il girone sud ci saranno Telimar Palermo e Muri Antichi a rappresentare la Sicilia.